Tragico incidente questa mattina a Via Monte di Faro Alto, nel territorio comunale di Bussi sul Tirino, dove un giovane romeno di 32 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione, sbalzato, poi schiacciato da un trattore mentre stava facendo la legna. Il giovane stava lavorando con una ditta agricola che ha sede a Capestrano. Una volta scattato l'allarme sul posto, difficile da raggiungere, i sanitari del 118 sono arrivati con l'elisoccorso, ma hanno potuto solo constatare il decesso. Il giovane sarebbe morto proprio mentre saliva nell'equipaggio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Popoli territorialmente competenti della Procura della Repubblica di Pescara che ha aperto un fascicolo sulla tragedia e del competente dipartimento della ASL che sta verificando le misure di sicurezza approntate.